Sono Andrea del ristorante Locanda Camatilde, il ristorante è nel territorio principe dell'Emilia-Romagna, per cui Reggio Emilia è vicino a Modena, è vicino a Parma, dove c'è un po' la food valley, dove il territorio è comunque molto presente come tipicità all'interno della nostra cucina. Il ristorante è già da otto anni a una stella Michelin. La nostra particolarità sta nella tipologia di menù, perché fisicamente non abbiamo un menù, per cui tutte le indicazioni che mi può dare il cliente le prendo per potergli creare il suo menù personalizzato. Per cui la cosa più importante nel nostro modo di cucinare è proprio la qualità e la costanza. Per avere qualità e costanza abbiamo bisogno di attrezzature che ci aiutano e le attrezzature come la prima e la stella ci hanno dato proprio la possibilità di avere più precisione, perché su quello che sono le cotture e su quello che è la qualità del prodotto che noi offriamo è fondamentale. Allora, avete visto oggi come abbiamo preparato alcuni piatti che normalmente proponiamo anche al ristorante, nei menù di gustazione, e fisicamente abbiamo fatto vedere un pochino qual è la possibilità della flessibilità della prima, nel senso che, per esempio, in quello che è il piatto relativo al salmone, e ne abbiamo utilizzato sia per la rosolatura che per la finitura magari di un vegetale insieme a quello che è la preparazione di un pesce. Per quello che invece riguarda la pancetta, il nostro manzo marinato, abbiamo sfruttato sia la precottura, diciamo quindi la cottura sottovuoto, per poi andare a fare il finishing durante il servizio, per cui al momento della comanda noi possiamo tranquillamente rifinire quelle che sono le arrostiture, diciamo, delle preparazioni. E la possibilità, diciamo anche di quello che invece è il prodotto del territorio principe, per cui la pasta e l'uovo. Per cui abbiamo visto come in pochissimo tempo, regolando al millimetro quello che è la precisione anche di un semplice soffritto e di un ripieno, abbiamo preparato quello che è il nostro piatto principale, che è la pasta ripiena, per cui un raviolo mantecato con appena un pochino di buro e salvia, servito con noccioli e liquirizie. Questo per far capire proprio che durante le preparazioni, durante il servizio, la frima è una macchina che viene utilizzata sempre. Preferisco la frima e sicuramente la precisione, ma la precisione ne ha già la possibilità di utilizzare, anche in fra i top, con una qualità costante nella cottura. E diciamo che la combinata anche con magari le attrezzature come razional, mi dà la possibilità veramente di ridurre completamente anche la quantità di fuochi, perché la nostra cucina è piccola e con poco più di due attrezzature siamo riusciti a coprire quella che è normalmente la batteria di attrezzature che servono. Per cui consiglio vivamente un'attrezzatura del genere per migliorare la qualità del proprio lavoro, ma soprattutto la qualità della propria vita, perché logicamente più l'attrezzatura ci aiuta nella gestione anche delle altre persone e più questo ci dà tranquillità nel poter lavorare e pensare realmente magari a quello che è effettivamente anche il nostro lavoro.